a lunga il braccio è un periodo distante avuta le braccia fate le braccia aspetta che tutti vediamo di nuovo 5 secondi 3 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 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 12 13 14 12 12 12 13 14 15